PNRR dice, volete i soldi della Comunità Economica Europea? Benissimo, dovete assegnare al mercato tutti i mercati che fino ad oggi erano statali. Quindi Leni è stata privatizzata. Quindi Leni, mentre prima faceva gli interessi del popolo italiano, adesso fa gli interessi del libero mercato. Libero mercato, le cui regole vengono stabilite ad Amsterdam, dove quattro persone, quattro persone, in un mercato che vale poco più del mercato delle ciliegie, sabato mattina in piazza, decidono i prezzi di rivendita. Ma noi, Leni, lo acquistiamo ancora ai prezzi di dieci anni fa. Quindi ci sarebbero tutte le condizioni con un decreto, perché le industrie italiane, le famiglie, non moressero. Perché l'industria italiana, che è il 99,9%, fatta di aziende di 10-20 persone fino a zero, non avranno la capacità finanziaria di efficientare. Quindi moriranno e chiuderanno tutte. o magari qualcuno che ha il commercialista sveglio chiude e riapre, scarica il debito sullo Stato, che sono su noi cittadini. Allora... Aspetta, allora vediamo il video, perché qui rientra in gioco l'Ucraina. Perché gli americani difendono l'Ucraina? Oltre al fatto che gli consente di riindustrializzare a spese dell'Europa gli Stati Uniti d'America... Vediamo il filmato. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces, should they approach. What I think got some people fired up is when she said, we're worried that the Russians will get a hold of these facilities, because that implies that there's something in those facilities that's dangerous. So I don't know if you could shed some light on how there can be things in the lab that are dangerous, but they not be weapons labs. Yeah, all I would say, Senator, is that, you know, the danger here, it seems to me, is the capacity the Russians have developed and that they've used in the past, and their, you know, interest in trying to create false narratives here as well. To the best of my knowledge, well, you have to be careful about, you know, any of those substances that you've talked about, which you see in public health or research systems around the world. Ecco, questo è per l'internazionale, però io ho bisogno per i nostri amici la traduzione. Il concetto che scrive, e questo, la famosa Nalan risponde a una domanda specifica. È vero che noi americani abbiamo dei laboratori di ricerca biologica finalizzati alla guerra biologica in Ucraina, e lei risponde di sì. Qual è il problema? Che i russi l'hanno scoperto. E per prevenire, dopo il Covid, altre guerre biologiche, perché il Covid è stata una guerra biologica americana e cinese, per perlina, hanno invaso l'Ucraina. Qual è il problema? Non hanno bisogno di arrivare fino a Kiev, perché i laboratori utilizzati dagli americani erano i vecchi laboratori, russi, di cui Mosca detiene la cartina geografica. Quindi praticamente nel momento stesso in cui sono andati a liberare il Donbass per salvare il popolo russofono, perché lì è il 90%, hanno anche bombardato queste postazioni, questi posti che loro conoscevano benissimo. Ma che gli americani avevano paura che fossero presi dai russi, quindi hanno dovuto difendere fino all'ultimo l'Ucraina. E chi sono questi signori maledetti che comandavano lì? Erano i democratici, i democratici che sono praticamente i guerrafondari di tutto il mondo. McCain, Biden e il figlio. Punto. Per non dire poi della Clinton.